Volker a tutti i sudditi ben ritrovati in un nuovo video Allora ragazzi breve video per farvi un aggiornamento della mia situazione So che ultimamente non sono usciti dei gran video Perché insomma non ho avuto tempo Ma ragazzi è chiaro con il ritorno della scuola Ho veramente un sacco di cose da fare E vorrei cercare di trovare anche del tempo per i video Però è abbastanza difficile Però comunque vi prometto che qualcosa la riuscirò sempre a portare ogni settimana Magari non proprio tutte le settimane Però ci proverò In questo video adesso vi parlerò di che video ci saranno Di quali video sto programmando Così insomma potete stare sicuri che io sto lavorando in questo momento E che i prossimi video usciranno In questo video vi dirò anche che cosa ho intenzione di portare per questo Halloween E come sta procedendo con la mia serie Perché è da un po' che non la vedete E magari vi state preoccupando I prossimi video che vi dirò Non usciranno per forza in ordine cronologico Però vi dico appunto quali sono le prossime idee di video La prima idea di grande video ovviamente È quella della recensione del Malawisauro della Safari Inoltre ho anche tanti modellini da portare Tanti modellini interessanti Con cui mi piacerebbe discutere con voi Il prossimo appunto è il Malawisauro della Safari Interessante la cosa che adesso torneranno anche i dinosauri Perché l'ultimo e anche attualmente unico video che ho fatto Su un modellino di dinosauro È stato quello di qualche estate fa Sul Cosmoceratops e sul Mamenchisauro della Colletta Perciò è passato molto tempo e adesso comunque i dinosauri finalmente ritornano sul canale Inoltre nel mentre ho anche platinato Caped Il gioco di cui ho fatto un gameplay una volta Ho fatto una gran bella strada perché siccome insomma non ho trovato grande interesse Da parte degli spettatori ho deciso di continuare il DLC per conto mio L'ho completato e adesso ho anche il trofeo di platino Assieme ai trofei del DLC Come funzionerà quindi? Voglio fare un video in cui faccio una guida per questi trofei Per dirvi come sono riuscito a farlo E darvi dei consigli nel caso anche voi voleste platinare questo gioco Il video sarà diviso in due parti Una per i trofei del Caped normale Più come ottenere i filtri segreti Perché vorrei mettere anche quello nel video E poi nella seconda parte farò un video sul DLC Più come ottenere il filtro di Celis E poi ragazzi c'è una serie che sta andando molto sul mio canale Che sta riscontrando molto successo Che sono ovviamente i Loquendo Avevo una proposta interessante Ossia siccome c'è stata gente che si è lamentata per le parolacce dei video Ho deciso di fare una cosa che potrebbe fare abbastanza ridere Ossia un video Loquendo Però Family Friendly Con delle censure abbastanza stupide Secondo me potrebbe essere un'idea carina Sarà sicuramente su Peppa Pig A meno che non trovi qualche altro soggetto interessante da fare Infine per quanto riguarda Halloween Come sapete ogni anno negli ultimi due anni sono uscite questi video satirici Il primo anno la storia di Vincenzo Sgarbato Una cosa abbastanza imbarazzante Però devo ammetterlo è stato molto carino da fare E poi Renzi l'assassino dei sogni che invece mi sono divertito un sacco a farlo E io volevo cominciare una vera e propria serie Che sarebbe anche la mia preferita del canale Perché ci metto tutto quello che penso e finalmente posso sfogare un po' la mia creatività Io avevo pensato appunto di farci una serie Il problema è che il prossimo episodio sta richiedendo più tempo del dovuto E al momento purtroppo con le animazioni non abbiamo ancora finito Sicuramente il prossimo episodio non esce ad Halloween Inoltre non è proprio così spaventoso per essere uno speciale Halloween questo episodio Però devo ammetterlo fare gli speciali Halloween mi piace Allora qual è la mia idea? Come ho detto prima i Loquendo hanno avuto vario successo sul mio canale Perciò ho intenzione di fare un Loquendo sul corto animato dei Fleischer Swing You Sinners Che è appunto un cartone degli anni 30 Peraltro che ha dato molta ispirazione a Caped E' abbastanza inquietante Per Halloween ci sta E farci un Loquendo secondo me farebbe molto ridere Dunque questa è la mia idea Vedremo un po' come andrà Spero che almeno vi possa fare un po' ridere Ovviamente questo Loquendo sarà normale non family friendly Magari ci sarà qualche parolaccia in meno Però rimarrà comunque nello stile dei Loquendo E quindi niente questo era un video per aggiornarvi Per farvi ricordare che io ci sono Che sto programmando i prossimi video E che ho intenzione di continuare a caricare su questo canale Detto questo spero che possiate avere un buon anno scolastico Visto che è appena cominciato Spero che possa procedere bene anche per me Spero di potervi riuscire a portare ogni settimana un video E detto questo il video è finito Andate in pace